Ma come al solito continuare a dire tutto voi, a fare tutto voi, io non ho mai chiesto alla società, questo è un giocatore, quindi parlate voi di Zeko, Zeko è un gran giocatore, ma è un giocatore della Roma e parlo di giocatori che appartengono ad altre società, quindi sai, da questo punto di vista posso dire che Sanchez è disponibile, deve rimanere concentrato, allenarsi, farsi trovare pronto, perché comunque credo che alle minime occasioni che possono capitare a chiunque, insomma, verrà comunque preso in considerazione chiamato in causa, quindi sai, sulla storia di questi giocatori non ho mai chiesto niente a nessuno, sono amici che mettete fuori voi di volta in volta, poi se c'è qualche giocatore che non vuole rimanere qui con noi e poi magari si vengono a creare delle situazioni per cui chi non è contento vuole andare via, queste sono cose che magari può prendere in considerazione la società, ma io non ho mai fatto nessun tipo di valutazione, i miei giocatori sono questi, questi rimandano e quindi, insomma, ripeto, parlo di miei giocatori, previsco non parlare di Zeko e di altre cose, perché sono sempre cose che vengono messe, non so, d'acchi in mezzo per cercare di minare l'ambiente, io voglio semplicemente che rimaniamo concentrati, ci aspettano un tren di partite di una certa importanza, un mese abbastanza impegnativo, ripeto, vorrei meno distrazioni possibili da questo punto di vista, e nient'altro. Grazie a tutti.